Nella giornata del 3 gennaio la polizia di Stato a conclusione di un'articolata attività investigativa ha eseguito l'arresto in fragranza di reato di tre uomini di nazionalità rumena residenti a piazza Armerina. Si tratta del 38enne Miklos Laslo, del 28enne Vasile Ghidu e del 26enne Theodor Natanael Nica. I tre rumeni sono accusati di furto bruri aggravato ai danni di un'abitazione sita in una contrata di piazza Armerina messa a segno nel pomeriggio del 3 gennaio occasione in cui approfittando dell'oscurità ed in assenza dei proprietari sono stati sradicati dalla loro naturale collocazione circa 10 metri di grondagno in rame inoltre poco distante e nello stesso pomeriggio i tre hanno tentato di commettere una rapina pluriaggravata ai danni di un'anziana coppia di coniugi avvicinandosi a brevissima distanza dall'abitazione delle vittime portando a seguito alcuni passamontagni e una pistola giocattolo con l'obiettivo di introdursi all'interno e rapinarli dei loro averi infine i tre cittadini rumeni risultano gravemente indiziati del furto bruri aggravato ai danni di un'abitazione sita in una zona rurale della città dei mosaici messa a segno la sera di capodanno occasioni in cui forzando una finestra ed approfittando ancora dell'oscurità e dell'assenza dei proprietari sono stati asportati numerosi quadri in rami in argento statuetti in argento massiccio coppe e persino indumenti per neonati la complessa attività investigativa svolta dalla squadra mobile dn dal commissario di pubblica sicurezza di piazza armerina consentiva di far luce su un gruppo di criminali rumeni senza scrupoli dediti a rapini in villa ai danni di anziani a furti nel centro urbano e nelle campagne della città dei mosaici nell'occasione gli investigatori riuscirono anche a sventare l'ennesima rapina progettata ai danni di una coppia di anziani residenti nella periferia rurale del centro armerino i tre rumeni laslo ghido e nica venivano dichiarati in stato di arresto e venivano accompagnati presso la casa circondariale di enna come disposto dalla procura della repubblica di enna che ha coordinato brillantemente le indagini nella persona del sostituto procuratore domenico cattano e del procuratore della repubblica massimo palmeri grazie